Salve a tutti, oggi apriremo la TIN di Pokémon di Slowbrobit. Salve a tutti. Ok. Ok. Allora. Abbiamo il codice. La carta di Slowbrobit e 4 pacchetti. Sintonia mentale, fragore, ribelle e 2, voltaggio, sporgorante. Partiamo da Sole e Luna, sintonia mentale, spade, scudo, fragore, ribelle e 2, spade, scudo, voltaggio, sporgorante. Io partirei da Sole e Luna, sintonia mentale, quello più bello. Codice. Codice. Drillbur, Energia Buio, Tauros, Tirtuga, Tranquil, Perejo Ball Reverse e la rara è un Galvantula. primo pacchetto abbastanza soft. Sintonia mentale. Codice. 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 Z Faithful. Cofing. Impedimp. Energia Erbaors. Indidi. Jarjabug. Metapod. Scissor Raro Reverse e la rara è un Whiskash... schifoso wilkesh adesso proviamo con i due pacchetti di voltaggio sfogorante sperando che vada bene abbiamo un voltaggio sfogorante ho sentito qualcosa abbiamo Wubat Execute Wismur Wismur Slugma Mudbreak Energia Lotta Formaggio Mumu Giraffaring Fabia Electric Raro Reverse Orbitol V Full Art Orbitol V Full Art Bellissimo Orbitol V Full Art L'altra volta abbiamo aperto la confezione di Orbitol V e oggi abbiamo trovato Orbitol V Full Art Pazzesco Bellissimo, bellissimo, bellissimo veramente l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto ma tanto non penso che troverò qualcosa anche abbiamo già trovato una bellissima full art affermi L'ultimo, se ho visto in effetti iubi 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 eubi iubi 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 un elettrodolografico elettrodolografico va bene è comunque un olografico non mi lamento e lo spacchettamento si conclude qui abbiamo trovato una ole una b full art bellissimo e ci vediamo a un prossimo video